Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 in apertura. La politica con i big che cominciano ad arrivare in Abruzzo dopo Salvini e la volta di Pierluigi Bersani a Teramo per Liberi e Uguali. Poi Luigi Di Maio domani sera a Chieti per il Movimento 5 Stelle e domenica a Pescara di Pietro Grasso sempre per Liberi e Uguali. Sempre caldo il tema legato alla possibilità di ritorno alle urne per il Consiglio regionale. In caso di elezione del governatore D'Alfonso i candidati proseguono la loro caccia al voto sul territorio, soprattutto tra gli indecisi. Il servizio di Alfredo Primante. In Abruzzo cominciano ad affluire i big della politica nazionale, segno che la campagna elettorale sta per entrare nelle fasi decisive. Dopo l'incursione di Salvini a Colonnella la scorsa settimana, nell'incontro della lista Noi con Salvini, oggi sempre nel Terramano è la volta di Pierluigi Bersani di Liberi e Uguali, partito che porterà domenica a Pescara nell'ambito del Fla Festival Pietro Grasso, leader e candidato premier. Mentre domani sera alle 21 a Chieti nel Super Cinema ci sarà l'evento conclusivo del Rally d'Italia del Movimento 5 Stelle con il candidato premier Luigi Di Maio. Intanto sul territorio prosegue la marcia dei candidati, impegnati a raccogliere consenso, soprattutto tra gli indecisi e tra coloro che nelle prime intenzioni non vogliono recarsi alle urne il prossimo 4 di marzo. Nel PD è chiamata le armi per tutti gli iscritti al partito, impegnati in una campagna elettorale tutta in salita, come spesso è accaduto ed accade alle forze di governo non solo in Italia. Stefania Pezzopane chiede agli elettori di tornare a dare fiducia a chi in questi anni ha governato il paese in un momento difficile. Sappiamo che al di là dei numeri c'è molta gente che ha bisogno di aiuto, abbiamo fatto tanto, dal reddito di inclusione agli 80 euro, alle misure economiche. Ora ci proponiamo nuovamente per il governo del paese, forti dell'esperienza che abbiamo fatto e capaci di orientare il paese verso il progresso e verso le sviluppo. Sempre tra i democratici Antonella Allegrino, attuale assessore al comune di Pescara, presenta la sua candidatura alla Camera dei Deputati e continua a scommettere sul sociale per ottenere un seggio a Roma. Iniziative legislative dove mano a mano a livello educativo si possa crescere nell'apprezzare quello che noi siamo come paese, credo che sia uno dei pezzetti particolarmente importanti che ci aiuterà anche a far parte di un'Europa più forte, di un'Europa più solidale. Nel centrodestra in Forza Italia il coordinatore regionale Nazario Pagano, capolista al Senato, punta tutto sulla proverbiale capacità di Silvio Berlusconi in campagna elettorale. Forza Italia, dice, è il perno della coalizione con Lega Fratelli d'Italia e noi con l'Italia Udc. Nonostante proseguano a livello nazionale le polemiche su chi sarà il premier in caso di vittoria. L'unità della coalizione centrodestra è fondamentale per la nostra vittoria. Abbiamo condiviso un programma che voglio dire in parte è quello che ho affermato poco fa. In questa regione certamente abbiamo degli eccellenti candidati di centrodestra. Forza Italia ovviamente è la colonna portante, diciamo, la formazione politica guida della coalizione. Noi siamo convinti che insieme faremo grandi cose per questa regione e per questo paese. Nel frattempo potere al popolo, formazione di sinistra, con il segretario e candidato Maurizio Acerbo, denuncia l'affissione illegale dei manifesti nella città di Pescara da parte del PD e del governatore Luciano D'Alfonso, chiedendo anche l'intervento delle forze dell'ordine. Abbiamo chiamato vigili e carabinieri per far riscontrare una palese illegalità da parte del presidente della regione Abruzzo che sta fuggendo a Roma candidandosi al Senato e costringendosi alle elezioni anticipate. Non è capace, come al solito, di rispettare le leggi della Repubblica italiana che in materia elettorale prevedono che sia vietata la propaganda luminosa, la propaganda fissa e che la propaganda elettorale debba andare solo negli appositi spazi. Un atto di prepotenza e di illegalità che la dice lunga su questo personaggio che ha collezionato inchieste giudiziarie quasi quanto Silvio Berlusconi. Ed ora la cronaca. Il cadavere di una donna è stato rinvenuto sulla spiaggia del lungomare di Termoli, in Molise, all'altezza dei Lidi, la Lampara e Stella Marina. A dare l'allarme è stato un passante. Potrebbe trattarsi del corpo della donna di Bolognano che è scomparsa da circa tre giorni dal piccolo centro in comune di Pescara. Per i dettagli il servizio dei colleghi di Tele Molise. Macabro ritrovamento sulla spiaggia nord di Termoli dove è stato rinvenuto il cadavere di una donna vicino alla riva tra il Lido, la Lampara e la Stella Marina. A lanciare l'allarme è stato un passante che ha notato la sagoma immobile sulla battigia. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto e la Polizia e immediatamente la scientifica. Il cadavere è stato trascinato a riva dalle correnti ed è probabile che si trovasse in acqua da non molto, visto che era intatto. Si tratta di una donna, bionda, con indosso un giubbotto, dei jeans e un paio di stivaletti. Una descrizione che combacia perfettamente con quella di una donna scomparsa solo quattro giorni fa nel Pescarese ma gli inquirenti per il momento ancora non confermano. Potrebbe trattarsi di Anna Maria Tabellione, 55 anni di Musellaro di Bolognano, un piccolo centro della provincia di Pescara. È scomparsa da casa da venerdì notte quando intorno alle 4.30 ha preso il cellulare, la borsa e alcuni effetti personali ed è andata via con la sua auto, una Renault Clio rossa. Da allora però il cellulare risulta spento e la vettura non è stata ancora ritrovata. Il marito e due figli hanno chiesto aiuto anche alla redazione di chi l'ha visto che sul proprio sito già aveva inserito la donna nella sezione scomparsi. Da una prima ricognizione non ci sarebbero segni di violenza sul corpo della vittima. Le indagini proseguono e la polizia di Termoli è in contatto con quella di Pescara per capire se si tratta davvero di Anna Maria. Colpo da 10.000 euro ai danni dell'ufficio postale di Santa Maria in Baro in provincia di Chieti dove nella notte i gnoti si sono introdotti dopo aver disattimato l'impianto elettrico, quindi tutti i sistemi di sicurezza e aver sfondato una parete confinante con uno studio medico. Qui erano entrati forzando una porta blindata. Nell'ufficio postale i ladri hanno divelto la cassa del Bancomat ma nell'operazione le banconote sono state macchiate dall'inchiostro indelebile. Questa mattina all'orario di apertura gli impiegati si sono resi conto che l'allarme non era inserito e hanno chiamato i carabinieri. Sono intervenuti i militari di Fossacesia e della compagnia di Ortona che hanno fornito una prima ricostruzione dei movimenti della banda fuggita su un furgone rubato nelle vicinanze. Prima i ladri avrebbero tentato di rubare un'auto comunale visto che è stata trovata aperta la serranda del garage del municipio e qui i carabinieri hanno trovato tute e scarpe utilizzate per il colpo. E poi ancora proseguono gli episodi di illegalità in via Passo della Portella alle spalle dell'ospedale civile di Pescara. In quella zona del capoluogo ci sono diverse case popolari che nelle scorse settimane sono state sgomberate e murate perché occupate abusivamente. Ieri sera sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per ripristinare la muratura degli accessi e controllare che all'interno non vi fossero persone entrate in maniera abusiva. I residenti del quartiere popolare chiedono da tempo maggiore sicurezza anche attraverso l'istituzione di un posto fisso di polizia H24 perché in quella zona si verificano a cadenza giornaliera episodi di illegalità e di sopruso da parte di personaggi appartenenti alla malavita pescarese. Cambiamo pagina. Il Comitato Salute Pubbliche di Chieti questa mattina ha illustrato un progetto di finanza complementare a quello della Regione Abruzzo per il recupero del Policlinico Teatino adeguamento sismico, recupero architettonico, ampliamento della zona di accesso, potenziamento dell'eliporto, il tutto progettato in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche. Il costo del progetto si aggirerebbe sui 35-40 milioni di euro. Il servizio di Paolo Renzetti. In verità noi abbiamo già presentato una proposta di finanza alla Slicchieti. Quando dico noi dico il promotore che è unati tra la CMC di Ravenna e la Copp Service di Reggio Emilia nella quale iniziativa noi prevediamo un recupero e adeguamento sismico della struttura esistente anche perché dobbiamo dire che la struttura esistente è ben funzionalmente strutturata. Quindi la recuperiamo abbattendo i tempi di intervento perché prevediamo massimo tre anni per il recupero e oltre ad un recupero e adeguamento sismico prevediamo anche un miglioramento dal punto di vista architettonico e degli accessi alla struttura seguendo un po' quelle che sono le linee che oggi dettano per la nuova sanità e nuove strutture sanitarie che è un miglioramento degli accessi attraverso una umanizzazione dell'accesso stesso. In più potenziamo l'eliporto rendendolo anche efficiente per i voli notturni e poi in genere una sistemazione complessiva. Il tutto in tre anni senza interrompere le attività ospedaliere interne perché questo progetto prevede l'adeguamento con interventi esterni attraverso un brevetto dell'Università di Ancona. Infatti l'iniziativa è promossa con una spin-off dell'Università e quindi questo non incide sulle attività. Quindi noi lavoreremo esternamente e con un impatto minimale su tutti i servizi interni. La spesa è prevista non superiore ai 35-40 milioni quindi un intervento tutto in progetto di finanza e tutto con capitali propri dei promotori. Tutto questo però va un po' a cozzare forse con il progetto Maltauro? In realtà non va a cozzare è una proposta completamente diversa nasce da un'esigenza che è quella di adeguare una struttura esistente perché è efficiente come ho detto prima funzionalmente ben fatta demolire o ricostruire o rimodulare un ospedale vuol dire tempi lunghi per poi avere sempre un ospedale che è di natura territoriale e quindi non certo un ospedale che può rispondere a quelle che sono le esigenze di un DEA di secondo livello. In questa maniera quella proposta di dividere le attività di DEA di secondo livello tra Pescara e Chieti verrebbe assolta completamente perché l'ospedale di Chieti tornerebbe a essere completamente efficiente. Entro il 2020 il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara avrà una nuova caserma in via Rigopiano a disposizione ci sono poco meno di 6 milioni di euro vediamo L'Agenzia del Demanio ha sbloccato a favore di Regione Abruzzo 5.824.000 euro di finanziamento per il completamento della nuova caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara la struttura sorgerà in via Rigopiano su un'area acquistata dal Comune di Pescara alcuni anni fa e sulla quale è già stata realizzata una parte degli alloggi destinati ai militari che saranno ultimati entro il 2018 il complesso nella sua interezza invece sarà pronto solo nel 2020 e prevede anche un parco a disposizione dei cittadini i fondi stanziati dall'Agenzia del Demanio comprendono anche la somma di 600.000 euro che è destinata alla progettazione della nuova caserma la gara d'appalto sarà pubblicata entro due mesi abbiamo finanziato tre caserme a Giulianova a Loreto e a Manoppello ci siamo impegnati a finanziare anche l'approvvigionamento energetico per la CNA Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri adesso la quinta operazione è completare il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara attraverso anche il completamento degli alloggi perché non c'è una città capoluogo di provincia che possa essere città accogliente senza la sicurezza percepita al Via la campagna di raccolta firme mai più fascismi promossa a livello locale a Pescara da Arci Ampi CGL CISL Will coordinamento per la democrazia costituzionale WISP e dai partiti liberi e uguali Rifondazione Comunista Partito Comunista Italiano e Partito Democratico Anche se molti dicono che non è il principale problema di questo paese l'Italia è un paese che ha incubato ha partorito e ha diffuso il fascismo aderiamo all'appello dell'Ampi perché ripudiare il fascismo non è una cosa di parte ma è una cosa di tutta la società civile questo perché il contrario di fascismo non è comunismo il contrario di fascismo è democrazia quindi chiunque si riconosce nelle forze democratiche di destra di centro di sinistra devono essere unite contro ogni fascismo perché purtroppo assistiamo a tanti episodi gravi e negativi e vogliamo una risposta unita comune di tutto il fronte democratico raccoglieremo le firme dai cittadini ma chiediamo pure alle istituzioni di negare gli spazi di agibilità per luoghi pubblici a formazioni che non si smarcano nettamente da ideologia o da propaganda fascista a questo proposito è uscito proprio di recente una sentenza del TAR di Brescia contro un ricorso fatto dalla formazione di estrema destra Casa Pound che si era vista negare un luogo pubblico dall'amministrazione perché non aveva voluto sottoscrivere un chiaro impegno a non propagandare l'ideologia fascista hanno fatto ricorso al TAR e il TAR gli ha dato torto questo è un primo esempio che fa giurisprudenza e che invitiamo altre amministrazioni ad avere lo stesso coraggio siete reduci anche dalla manifestazione di Macerata di pochi giorni fa sì abbiamo partecipato convintamente anche se ci sono state delle esitazioni e ci sono stati diciamo pure da parte delle istituzioni appelli a non partecipare per noi invece era importante una risposta democratica dal basso per riaffermare i valori antifascisti e far capire che queste persone non possono avere agibilità in questo paese perché a un attentato terroristico di matrice fascista non si può rispondere con il silenzio restando a casa firmato in provincia a Pescara questa mattina l'accordo tra provincia di Pescara comune di Penne e Inps regionale per la realizzazione della cittadella della prevenzione grazie anche alla sinergia con il centro per l'impiego di Penne a Penne esorgerà la cittadella della previdenza e del lavoro prima in Abruzzo grazie alla sinergia dei servizi offerti dall'istituto previdenziale Inps e dal centro per l'impiego di Penne questa mattina nella sala figlia di Orio della provincia di Pescara è stato sottoscritto il protocollo d'intesa fra Inps Abruzzo comune di Penne e provincia di Pescara presto nella cittadella della previdenza e del lavoro saranno implementati anche servizi aggiuntivi da parte dell'ASL di Pescara ai cittadini di Penne continueranno a essere garantiti l'accesso agli stessi servizi che in precedenza godevano presso la precedente sede dell'Inps e cittadini imprese e patronati si rivolgeranno per tutti i servizi e avranno risposta speriamo anche grazie a un'organizzazione più agile speriamo di poter soddisfare le loro esigenze anche in tempi di risposta più brevi crediamo che la presenza dell'Inps sia un punto importante anche di rilancio della centralità dei paesi all'interno del loro territorio quindi assolutamente ci tenevamo moltissimo e siamo contenti di questa collaborazione che permetterà una continuità se questa è la cittadella praticamente dei servizi perché dice il centro per l'impiego c'è la sede dell'Inps abbiamo realizzato anche un altro importante polo che è la cittadella della sicurezza dove stiamo ospitando i vigili del fuoco la protezione civile quindi insomma stiamo aprendo un discorso veramente nuovo mai visto in precedenza nella nostra area il settore della zootecnia in provincia di Pescara stenta a ripartire dopo la nevicata eccezionale dello scorso anno il crollo delle stalle e la morte di gran parte di capi animali hanno messo in ginocchio le aziende del comparto con la conseguente diminuzione della produzione i fondi post terremoto sono ancora bloccati Vestina News ad un anno dalla nevicata del gennaio 2017 che ha messo in ginocchio le aziende specialmente quelle a ridosso della montagna il comparto zootecnico nell'area Vestina stenta ancora a ripartire le aziende hanno perso tutto o quasi dalla morte di capi bovini e ovini al crollo delle stalle sotto la forza della neve così da rallentare la produzione di carne e latte quest'ultimo fondamentale per il territorio nella produzione del pecorino di farindola sono ancora tante le difficoltà da affrontare come reperire spazi dove far crescere i nuovi capi e per di più gli aiuti da parte delle istituzioni fino ad ora non sono arrivati è stato un anno difficilissimo andare avanti non è non è stata semplice siamo ancora oggi pressoché fermi fatta eccezione per la rimozione delle macerie stiamo aspettando che lo Stato risponda in qualche modo sbloccando i fondi per le aree terremotate speriamo che facciano in fretta perché ogni giorno che passa determina la fine della realtà zootecnica pescarese e terramana che sono le aree particolarmente colpite la cosa che mi sarei aspettato sarebbe stata quella subito da parte dello Stato di un intervento per il riacquisto dei capiovini o bovini che sono stati persi durante i crolli delle stalle a gennaio per permettere alle aziende comunque di ritornare in produzione il più velocemente possibile mi auguro che lo Stato non pensi solo alle elezioni prossime del 4 marzo ma che si dia da fare concretamente e soprattutto velocemente per darci una risposta è fissato tra 600 giorni il termine ultimo di consegna dei lavori per la realizzazione della via verde della costa dei Trabocchi 43 chilometri di pista ciclopedonale che attraversa la costa della provincia di Chieti da Francavilla a San Salvo l'erosione della costa è il problema più grande da affrontare finalmente operai al lavoro le transenne i primi mezzi con qualche giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista per gennaio sono iniziati i lavori sulla via verde l'ex reliquado ferroviario che diventerà l'attesa pista ciclopedonale lunga 42 chilometri e che racchiude le speranze di un rilancio turistico della costa dei Trabocchi dei 5 lotti che vedono impegnate altrettante ditte solo Ortone e San Vito hanno visto l'apertura dei cantieri ma entro al massimo due settimane anche i tratti a sud saranno aperti a ruspe e maestranze tempi previsti per la consegna dell'opera 600 giorni con la Cogepri che si è giudicata la gara d'appalto l'erosione della costa è il problema più serio da risolvere speriamo in una situazione benevole più che altro se riusciamo a risolvere quelle che sono tutte le problematiche puntuali purtroppo il tracciato è molto esteso quindi 43 chilometri non è un cantiere concentrato quindi le problematiche saranno migliaia ma le altre parti sono nascerà ad isola del Gran Sasso il parco faunistico del parco nazionale del Gran Sasso ci sarà anche un'area didattica per i ragazzi accanto alle eccellenze avifaunistiche dell'area protetta abruzzese vediamo essenzialmente partiamo dall'area l'area è un ex cantiere Cogefar quindi noi riqualifichiamo un'area la rinaturalizziamo e gli diamo una vocazione di tipo turistico che cosa vuol dire nel centro Italia non c'è nulla di paragonabile su 20 ettari il sarà possibile entrare e il toccare letteralmente il comano quello che è la presenza il faunistico del nostro territorio per l'appunto una presenza faunistica anche rispetto agli animali domestici perché noi inseriamo millenellari una parte didattica proprio da dedicare a quello che è la nostra civiltà contadina il nostro modo di vivere nell'agro silvopastorale in simbiosi con la natura e trarre economia dal dato naturale anche animale e zootecnico accanto a questo naturalmente le eccellenze delle matrici ambientali e le faunistiche che pure abbiamo quindi il camoscio il cervo il capriolo e tutte quelle matrici anche di avifauna significative tipiche del territorio la tempistica noi contiamo entro l'anno il di inserire almeno passare dalla fase progettuale alla fase specifica di intervento con la posa almeno della prima il le pietra perché qui va detto che la progettualità copre una spesa di 10 milioni di euro il finanziamento che è stato inserito in finanziaria che pure drena risorse a favore del nostro territorio è un milione di euro la copertura aggiuntiva ci viene da un finanziamento del comune di Isola del Gran Sasso per 500 mila euro questo milione e mezzo ci consente per step il di partire almeno col modulo che noi dedichiamo all'aspetto didattico perché l'idea è di portare sul nostro territorio per esempio le scolaresche di Roma a vedere le bellezze del parco e toccare le con mano come si vive in simbiosi per l'appunto con il dato zootecnico e con gli animali nel nostro territorio apriamo la pagina dello sport la giuria del premio Prisco presieduta da Sergio Zavoli si è riunita stamattina a Bolognano per procedere alla selezione della rossa dei finalisti della sedicesima edizione del premio nazionale alla lealtà alla correttezza e alla simpatia sportiva la giuria ha selezionato anche la rossa dei finalisti della quattordicesima edizione del premio speciale di giornalismo Nando Martellini è stato poi deciso di attribuire il premio speciale della giuria al presidente del CONI Giovanni Malagò ai vincitori che saranno proclamati nelle prossime settimane verrà conferita una prestigiosa creazione artistica realizzata dal pittore scultore e incisore maestro Mimmo Paladino nel corso di una cerimonia che si svolgerà lunedì 14 maggio alle ore 11 nel teatro Marrucino di Chieti queste le terne dalle quali scaturirà il nominativo del vincitore di ciascuna categoria dirigente di società Francesco Totti della Roma Maurizio Stirpe del Frosinone Oreste Vigorito del Benevento allenatori Davide Nicola del Crotone Luigi Di Biaggio Davide Nicola chiaramente ex allenatore del Crotone Luigi Di Biaggio CT della Nazionale di A e Under 21 Massimo Oddo allenatore dell'Udinese calciatori Gianluigi Buffon della Juventus Fabio Quagliarella della Sampdoria e Federico Chiesa della Fiorentina premio speciale al giornalismo Nando Martellini i candidati Gaia Piccardi del Corriere della Sera Massimiliano Castellani di Avvenire e Luigi Garlando della Gazzetta dello Sport l'ex tenista professionista Mara Sant'Angelo ha incontrato gli studenti delle scuole superiori di Atri nell'ambito del progetto allenarsi per il futuro un programma partito quattro anni fa proprio dalle scuole ducali e che rientra nell'alternanza scuola-lavoro Jacopo Forcella Mara Sant'Angelo il titolo di questo incontro è abbastanza esplicativo il titolo di questo progetto è abbastanza esplicativo perché un po' ricalca la tua vita lo sport ma dopo lo sport anche altro sì sicuramente ci ho sbattuto le corna come si dice perché poi ti devi reinventare devi trovare un nuovo lavoro noi cerchiamo di far capire ai ragazzi grazie a questo progetto che si chiama allenarsi per il futuro quanto sia importante allenarsi oggi per un loro futuro per pensare poi al domani a quello che vogliono fare da grande io non pensavo sai gioco a tennis ma chi se ne frega dello studio invece una volta smesso non ero nemmeno diplomata per continuare a raggiungere nuovi sogni quello che voglio fare necessita per forza per degli studi quindi il diploma prima la prima laurea la seconda laurea a fine dello scorso anno insomma però rimboccarsi le maniche non è semplice a 30 anni è più facile farlo da giovane intendiamo focalizzare l'attenzione dei nostri studenti sull'importanza dell'allenamento proprio per un allenamento costante continuo e per questo usiamo la metafora dello sport per accarezzare i propri sogni e per raggiungere i propri obiettivi nella vita e con il progetto allenarsi per il futuro lato alternanza scuola lavoro abbiamo già attivato più di 2000 tirocini formativi e abbiamo attuato e su tutto il territorio italiano circa 900 tappe del progetto allenarsi per il futuro che sono tappe legate all'orientamento e alla formazione dei studenti italiani è molto bello incontrare questi giovani e i loro istituti scolastici perché appunto siamo degli interlocutori che condividono con i ragazzi delle esperienze e danno dei consigli appunto per guidarli per il loro futuro chiaramente la testimonianza dello sportivo che coinvolgiamo in ogni appuntamento è l'esempio massimo di ciò che l'impegno può favorire cioè il risultato perché appunto allenarsi per il futuro è una metafora che permette di spiegare ai ragazzi che per ogni risultato che vogliamo raggiungere in ogni ambito è necessario l'allenamento quindi l'impegno nelle proprie attività e la costanza nel farlo per raggiungere in futuro un risultato importante ed ora parliamo di calcio di serie B la vittoria sulla Salernità ha rilanciato il Pescara e ridato fiducia all'ambiente biancazzurro ora il Delfino è atteso dalla trasferta di Chiavari e poi due incontri casalinghi con Cremonese e Carpi scontri diretti in chiave playoff l'obiettivo dichiarato dal presidente Sebastiani ma per centrarli il Pescara dovrà ritrovare con maggiore assiduità la via del gol vediamo 17 tappe ancora da affrontare e 51 punti a disposizione c'è ancora tanta strada da fare da percorrere per il Pescara che vuole centrare i playoff obiettivo dichiarato senza mezzi termini dal presidente Sebastiani sarebbe un fallimento non li centrassimo ha dichiarato la scorsa settimana il massimo dirigente biancazzurro obiettivo sul quale si è allineato anche Zdenek Zeman almeno su questo aspetto non ci sono divergenze di vedute due i punti che il Pescara il Delfino deve recuperare dall'ottavo posto ora occupato in coabitazione da Carpi e Venezia in tal senso i tanti punti ancora a disposizione sono un vantaggio per il Pescara che forse tra le squadre di medio alta classifica è una di quelle che ha più ampi margini di miglioramento perché il credo del Boemo non è stato ancora totalmente assimilato e perché l'impatto del mercato di gennaio deve ancora manifestarsi in pieno contro la Sanitana ha debuttato Gravion il quale al di là di un paio di svirgolate ha convinto oltre che per personalità anche per rapidità ed esplosività caratteristiche queste ultime che Zeeman cerca per tentare di alzare la linea di difesa solitamente più bassa quando comandata da giocatori più anziani non ci sono ancora visti due pezzi pregiati in entrata ma Cine è rimasto sempre in panchina con Frosinone Stadernitana è una mezzala offensiva di qualità e struttura ma rischia di trovare poco spazio se Zeeman vede in lui solo un'alternativa a Brukman giocatore insostituibile soprattutto Falco l'esterno che si è fatto male al primo allenamento ma che ora sembra aver superato la distrazione al ginocchio e da ieri è rientrato in gruppo e sabato potrebbe quantomeno finire in panchina senza dimenticare Cristian Bunino che nel quarto d'ora di sabato ha mancato una ghiotta opportunità ma ha messo in mostra movimenti interessanti nuove risorse per un Pescara che deve ritrovare con più frequenza la via del gol da sette giornate i biancazzurri non riescono a segnare più di un gol e in questo scorcio di campionato il bomber pettinari ha smarrito la via della rete il Delfino ha realizzato cinque gol dei quali quattro sono tiri dalla distanza e solo uno è frutto di un'azione verticale in salsa bohema quello di Mancuso a Foggia e così capita di vedere un Pescara che vince perché non prende gol che incamera sei vittorie su otto per uno a zero dati che sono l'antitesi dei principi di Zeman Landia chi conosce Zeman si sorprende di questo dato e si sorprende ancora di più nel vedere il tecnico bohema indicare all'arbitro in pieno recupero che il tempo è scaduto e la partita è finita forse Zeman si sta adeguando a questo Pescara che poco gli somiglia per ora tutto ciò è stato sufficiente per restare in linea di galleggiamento ma il bohema sa meglio di tutti che lì davanti si deve fare molto di più i playoff passano per un netto miglioramento dei numeri dell'attacco intanto per la partita di Chiavari rientreranno Crescenzi e Coulibaly da valutare nelle prossime sedute Coda e Balzano mentre ci sono brutte notizie per Proietti ieri costretto alle terapie dopo il quarto d'ora giocato sabato scorso sul fronte in Tella certa l'assenza di Ceccarelli molto probabile quella di Pellitzer col tecnico Aglietti che dunque dovrà rimodellare la coppia di centrali che saranno con ogni probabilità Benedetti e Cremonesi e sempre a proposito della squadra di Chiavari Asdren Lullacu attaccante classe 88 della nazionale albanese è un nuovo giocatore della Virtus Entella la stagione scorsa Lullacu è stato capocannoniere della massima serie rumena con 20 partite e 16 gol prima di trasferirsi alla Stana nel gennaio 2017 Lullacu aveva risolto i primi di gennaio il suo contratto con il club Kazako ed ora si è legato alla squadra del patron Antonio Gozzi e ora scendiamo in serie D perché domani si disputerà al Pirani di Grotta Mare il recupero della gara tra Monticelli e Francavilla valevole per l'ultima giornata di andata a me ci si sarebbe dovuto disputare lo scorso 17 dicembre poi rinviato per impraticabilità del campo causa pioggia vediamo come il tecnico dei giallorossi Iervese presenta questa partita Pierluigi Iervese non vi fermate mai perché domani alla Grotta Mare c'è il Monticelli una gara importantissima la più difficile del campionato per quello che poi potrà arrivare sì come abbiamo detto il Monticelli è una squadra che è difficile da incontrare perché fa giocare male tutte le altre squadre quindi è una squadra che gioca molto sull'avversario e il campo poi non è un campo da quello che sappiamo bello per poter giocare bene però a prescindere queste cose dobbiamo assolutamente far bene e vogliamo fare come abbiamo fatto domenica a Castelfidardo il primo tempo dove abbiamo disputato una gran partita e se è possibile questa volta raggiungere il risultato pieno se dovesse arrivare il risultato pieno poi i playoff sarebbero alla portata già lo è perché la classifica il corte però con un risultato importante con il Monticelli potrebbe guardare direttamente al futuro direttamente playoff ma sì ma l'abbiamo detto l'obiettivo nostro è quello però non è una partita che può mettere in discussione il discorso playoff dobbiamo sicuramente vincere perché con i tre punti ci porterà ci darà la possibilità di avvicinarci sempre di più nella zona che ci interessa però ecco dobbiamo essere equilibrati dobbiamo essere bravi a cercare di continuare a fare bene a parte la partita di mercoledì ma dare continuità come stiamo facendo benissimo anche con le altre partite finisce qui la seconda edizione del TG6 la prossima edizione sarà quella delle ore 23 e poi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione Proteramo condotta da Jacopo Forcella grazie per l'attenzione e buona serata grazie per la visione